Tua sorella sta bene? Presto tornerete a casa. Ma Babbo Natale come fa a sapere che è qui? Troveremo un modo per farlo sapere. No, non ci pensare neanche. Sono le sette della vigilia. Una stella è un bambino. È infallibile. Tenete d'occhio al cielo, potrebbe sorprendervi. Buona festa a tutti. A presto. A presto.